oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro otto di torino un giorno a tutti io sono antonino ed oggi vi leggerò rudolf la renna dal naso rosso lassù nel nord dove le notti sono più scure più lunghe e la neve molto più bianca che la nostra latitudine la abitano le renne ogni anno babbo natale si reca in quel luogo per cercare gli animali più forti e più veloci per trasportare nell'aria la sua enorme slitta da quelle parti viveva una famiglia con cinque piccoli il più giovane rispondeva al nome di rudolf ed era un piccolo particolarmente vivace e curioso e infilava il suo naso dappertutto ed era un naso veramente particolare sempre quando il suo piccolo cuore di renna batteva un po più forte per l'agitazione diventando così rosso come il sole incandescente poco prima del tramonto ugualmente si era allegro o arrabbiato il naso di rudolf si illuminava in tutto il suo splendore i suoi genitori di sui fratelli si divertivano con il suo naso rosso ma già l'asilo delle renne era diventato lo zimbello di quei birbanti a quattro zampe questo è rudolfo con il naso rosso così lo chiamavano e ballavano tutto intorno a lui mentre lo indicavano con i loro piccoli zoccoli nella scuola elementare le piccole renne lo prendevano in giro come potevano rudolf cercava con tutti i mezzi di nascondere il suo naso a volte lo dipingeva con del colore nero allora andava a giocare a nascondino con gli altri ed era contento che per stavolta non l'avevano scoperto ma nello stesso momento in cui si rallegrava del suo successo il suo naso cominciava ad illuminarsi così tanto che il colore si sfaldava un'altra volta si infilò nel naso un cappuccio nero di gomma ma riusciva a respirare solo con la bocca e non appena iniziava a parlare sembrava che avesse una molletta attaccata al naso i suoi compagni si tenevano alla pancia del ridere ma rudolf correva a casa e piangeva amaramente non giocherò mai più con questi stupidi diceva piangendo e le parole dei suoi genitori dei suoi fratelli riuscivano a consolarlo solo un poco i giorni diventano più corti e come ogni anno si annunciava la visita di babbo natale in tutte le famiglie di renne i ragazzi giovani forti si facevano belli le loro pellicce venivano a lungo strigliate e spazzolate fino a che non rilucevano del colore del rame le corna venivano pulite con la neve finché non risplendevano la fioca luce degli inverni del nord e poi finalmente era arrivato il momento in un piazzale gigantesco dozzine di renne impazienti e nervose raspavano con i loro zoccoli ed emettevano richiami belli e dallo stesso tempo terrificanti per impressionare i concorrenti tra di loro c'era anche rudolf la cui forza ed il cui vegore era superiore a quello degli altri partecipanti puntualmente al momento stabilito babbo natale atterrò dal vicino paese di natale dove era la sua casa con la sua slitta trainata solo da donne il suo fedele caporenna una neve leggera iniziata a cadere e l'ondeggiante mantello rosso era coperto da punti bianchi babbo natale si mise subito al lavoro ed esaminò ogni animale sempre borbottava poche parole nella sua lunga barba bianca a rudolf sembrò un'eternità quando la fila arrivò a lui il suo naso diventò incandescente per l'agitazione quasi luminoso come il sole babbo natale arrivò verso di lui sorrise amichevole e scosse la testa sei grande robusto e sei un bellissimo giovanotto disse ma purtroppo non posso sceglierti i bambini si spaventerebbero a vederti la tristezza ed il dolore di rudolf non avevano limiti più veloce che poteva corse attraverso il bosco e scalpitò ruggendo nella neve alta i rumori e la luce rossa visibile da lontano attirarono una piccola elfa prudentemente gli si avvicinò gli posò una mano sulla spalla e chiese cosa ti è successo guarda come brilla il mio naso nessuno ha bisogno di una renna con il naso rosso rispose rudolf conosco bene questa sensazione disse la piccola elfa io vorrei lavorare nel paese di natale con tutti gli altri elfi ma sempre quando sono agitata le mie orecchie iniziano a tremare e le orecchie tremolanti non piacciono a babbo natale rudolf sollevò lo sguardo con gli zoccoli si asciugò le lacrime dagli occhi e vide una bellissima elfa le cui orecchie si muovevano quei là al ritmo di un battito di ali il mio nome è erbi disse timidamente e mentre si guardavano negli occhi l'uno con un naso rosso scintillante l'altra con le orecchie tremolanti che si muovevano a ritmo scoppierono a ridere all'improvviso e risero fin tanto che non fece mai male loro la pancia in quei giorni fecero amicizia chiacchierarono fino a notte tornando a casa solo all'alba con passi da gigante si avvicinava il tempo del natale in quei giorni erbi e rudolf si incontravano molte volte nel bosco tutti erano così occupati con i preparativi per le feste natalizie che nessuno faceva caso che il tempo giorno dopo giorno andava peggiorando due giorni prima di natale la fata del tempo consegnò a babbo natale il bollettino meteorologico questi con il viso preoccupato al solo sguardo al cielo e sospirò rassegnato quando domani attaccherò le renne seduto sulla cassetta non riuscirò a vederle come potrò trovare la strada per arrivare alle case dei bambini quella notte non riuscì a dormire continuò ad ambiccarsi il cervello per trovare una via d'uscita infine indossò il mantello gli stivali ed il cappello attaccò donna alla slitta e si incamminò verso la terra forse troverò là una soluzione penso mentre iniziava a volare nevicava con fitti fiocchi così fitti che babbo natale riusciva appena vedere c'era solo una luce rossa che illuminava così chiaramente come se davanti a lui ci fosse un'enorme quantità di gelato la fragola babbo natale amava il gelato la fragola solve disse che naso bellissimo ed eccezionale che hai se proprio quello di cui ho bisogno che cosa ne pensi di correre davanti alla mia slitta e dimostrarmi la così la strada per raggiungere i bambini appena rudolfo ascoltò le parole di babbo natale per l'emozione gli cade per terra l'albero di natale che stava trasportando poi lentamente riprese il controllo di se stesso naturalmente lo farò valentieri mi fa un enorme piacere ma all'improvviso diventò molto triste ma come faccio a trovare poi la strada per tornare indietro al paese di natale se nevica così fitto nello stesso momento in cui pronunciava quelle parole gli venne un'idea torna subito disse mentre già correva ad un veloce galoppo verso la strada del bosco lasciando indietro uno stupito babbo natale pochi minuti dopo tornavano indietro una renna con il naso rosso e una piccola elfa con le orecchie tremolanti lei può condurci indietro babbo natale disse rudolf pieno di orgoglio indicando erbi lei conosce la strada questa è una magnifica idea tu no babbo natale ma adesso devo tornare indietro a più tardi e così successe che per natale babbo natale fosse accompagnato da una renna con il naso rosso e da un elfa con le orecchie tremolanti rudolf il giorno successivo per la sua bellissima azione venne festeggiato da tutte le renne entusiaste il giorno successivo ballarono e cantarono nella piazza principale dicendo rudolf dal naso rosso sei entrato nella storia e deve essere stato così che qualcuno ha visto babbo natale di suoi utenti altrimenti nessuno avrebbe raccontato questa storia buongiorno a tutti io sono riccardo per il laboratorio speed hub oggi vi leggo il principe azzurro il principe azzurro è che noi donne siamo fastidiose ci abbiamo la fastidiosità inserita proprio nel dna sarà che il cuore ci batte più veloce e diventiamo insofferenti abbiamo bisogno che il nostro re moggio ci dica delle robe ma non robe qualsiasi tipo guarda che ti scade il bollo dell'auto parole d'amore dannazione agoniamo assoluto agoniamo l'assoluto vogliamo credere che siamo fatti proprio uno per l'altra qualche giorno fa mi sentivo molto perla così ho mandato un sms al mio sandokan personale ti amo ho scritto un po scontato ma sempre attuale bastava che mi rispondesse anch'io sono poi sei lettere no lui no la mia tigre mi ha risposto prendo atto e io che una volta credevo nel principe azzurro coi capelli di polenta e gli occhi a lago che mi citofonava al portone posteggiando il cavallo bianco di lato al cassonetto sono passati 38 anni e ancora non l'ho trovato o son cretina o comincio a dubitare che sia una specie protetta magari si è magari si è estinto da anni ho trovato svariati uomini che mi piacevano con i quali ho fatto anche un pezzo di strada principini principastri principuzzi non tantissimi per la verità con qualcuno giusto fatto due passi mai a cavallo sempre a piedi ma nessun principe azzurro ciao noi siamo riccardo e dario e oggi per il laboratorio speed up primo giorno di scuola primo giorno di scuola svegliati andiamo è primo giorno di scuola non voglio andare a scuola ancora cinque minuti non tu papà io va bene alzati c'è la scuola c'è la scuola oggi comincia la scuola c'è la scuola che bello bellissimo è viva va bene sono sveglio che succede va bene sono sveglio andiamo a scuola nemo primo giorno di scuola nemo fermo non muoverti non puoi farcela da solo ci penso io dov'è la ferita cosa ti fa male no a volte non si sente per via dei fluidi che convergono nell'aria convergono no ti gira la testa no dimmi quante strisceo ehi sto bene rispondi alla mia domanda tre grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di radio teatro 8 per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata